Buongiorno da Edo e torniamo a parlare della frizzantissima situazione in Twitter che tendo a ignorare perché non mi interessano molto i cambi di umore di un miliardario mitomane ma che nei giorni scorsi ci ha fornito un update piuttosto dibattuto in giro che ci dà la scusa per dare un'occhiata a come si è evoluta questa situazione negli ultimi mesi. Naturalmente sapete tutti che Elon Musk ha acquistato Twitter lo scorso aprile e da allora sta epurando tutti quelli che secondo lui sono inutili, improduttivi o gli stanno antipatici nel frattempo rendendosi ridicolo pubblicamente tipo recentemente quando ha bloccato il suo account Twitter per testare se i tweet bloccati generassero più visualizzazioni rispetto a quelli pubblici facendo in seguito un meeting con un gruppo di sviluppatori interni per chiedere perché il suo account con oltre 100 milioni di follower ottenesse solo decine di migliaia di impressioni. Secondo quando riportato da Platformer un principal ingegnere ha cercato di spiegare che la diminuzione potrebbe essere dovuta alla diminuzione dell'interesse del pubblico e i dipendenti hanno fornito dei dati interni che corrispondevano poi a un grafico di Google Trends ma questo non sembra aver soddisfatto il nostro in cui immediato risponso è stato quello di licenziare lo sviluppatore che aveva suggerito che le persone siano sempre meno interessate a seguire tutti i movimenti di Musk online. Questo episodio è solo l'ultimo dei tanti che fanno pensare che i dipendenti di Twitter lavorino in uno stato di caos continuo sotto lo sguardo attento del nostro. Inoltre secondo Fast Company la piattaforma sta diventando sempre più instabile il che potrebbe portare a un ulteriore calo delle entrate il dramma principale per colui che ha speso 44 miliardi di dollari per comprarselo. Peraltro quanti ingegneri ha buttato in mare il nostro da quando ha preso il comando della nave? Secondo un report di CNBC fonti interne riportano che finora è stato tagliato l'80% del personale e il totale dei dipendenti si aggira intorno alle 1300 unità con meno di 550 sviluppatori full time che devono occuparsi del mantenimento del software dell'infrastruttura e di aggiungere le nuove feature richieste dal grande capo. Anche se comunque lui ha chiamato poi in soccorso una squadra di fedelissimi da altre sue compagnie circa 130 persone che provengono da Tesla, SpaceX, The Boring Company che sono autorizzate quindi a lavorare su Twitter. Mercoledì scorso la piattaforma ha lanciato questa nuova feature dei tweet da 4000 caratteri per gli iscritti a Twitter Blue ed è andata giù. Per qualche ora non era possibile twittare o mandare messaggi diretti quindi non un buon segnale insomma. Sempre Fast Company ha pubblicato gli estratti di alcune conversazioni tra ex ingegneri di Twitter che parlano di come in questo momento quelli che sono rimasti stanno lavorando in uno stato di totale caos con il grande capo che obbliga a frequenti code freeze impedendo quindi quel graduale deploy di piccoli change che era la buona regola per mantenere stabile una code base molto estesa e che comprende vari linguaggi e questo significa che un gran numero di change viene deployato tutto insieme quindi se si rompe qualcosa è difficile andare a scoprire di chi è la colpa. Peraltro per l'outage di mercoledì il nostro ha twittato parlando di problemi interni ed esterni ma Platformer ha detto invece che un dipendente avrebbe accidentalmente cancellato dei dati di un servizio interno che setta un rate limit sui tweet che sembrerebbe essere il motivo per cui gli utenti non potevano più twittare. Inoltre sempre secondo Platformer la Federal Trade Commission sta pianificando di effettuare un audit su Twitter questo trimestre. Sapete che Twitter è sorvegliato speciale del governo federale e soggetto a periodici assessment su security e privacy. Non si sa se allo stato attuale Twitter sia in grado di superare questi audit e nemmeno se Musk ci voglia davvero provare. E questo era tutto per l'aggiornamento sulle condizioni di Twitter in balia della tempesta e dei capitani coraggiosi. Grazie per avermi seguito e domani c'è Continuous Delivery e quindi basta. Buona settimana. Ciao.